Ciao a tutti! Benvenuti in un mio nuovo video! Io sono Emanuela, questo è il canale Facile e Veloce Opinioni e questo video, visto che avevo fatto un video breve di outfit, lo faccio con la mia tenuta da casa perché ci sono 5 gradi e io sono ricorsa al pile perché non potevo farne a meno, avevo bisogno del peluscio su caldo morbido questo video lo faccio per mandare un bacione a Cristina Russo Nays & Lashes il canale che mi ha salutato e citato oggi, sono felicissima e commossa io le siamo diventate, questo è stato il miracolo di Youtube, ci ha fatto fare amicizia veramente ci siamo affezionate, abbiamo discusso per non so quanto tempo di unghie della nostra passione per le unghie e lei mi sta convincendo a fare un corso professionale proprio per i semi permanente, non solo, ha sopportato le mie pecionate iniziali con i semi permanenti per inciso, è stata di una pazienza veramente incredibile perché all'inizio facevo delle cose orribili questi sono 7 giorni di semi permanente, non si sta sbeccando mi piace molto questo color rosa orchidea e secondo me proprio questa luce lo rende benissimo questo tocco orchidea comunque la ringrazio, lei ha definito il mio canale di fashion e beauty sì, i fashion e beauty mi piacciono lo scopo, ma penso che ormai sia chiaro anche a voi è dare un altro messaggio, ovvero che a partire dalla cura estetica, ovvero il risolvere i piccoli problemi estetici che noi stessi ci siamo a volte creati ovvero io per esempio, come vi ho detto, mi sono appassionata al semi permanente perché io mi strappavo tra virgolette con le dita le stesse unghie che mi si spezzavano alle punte mi facevo le feritine tirandomi le pellicine, invece non lo faccio più anzi, vi devo dire che ci metto ogni giorno l'olio per cuticole e sono contentissima della cura che sto facendo per le mie mani nonché appunto faccio cure dopo che mi sono levata il semi permanente mi faccio sempre le cure per le mani a partire da queste piccole cose estetiche veramente si può arrivare a cose grandi ovvero iniziare ad avere un amore verso se stessi verso il proprio corpo accettandolo a volte ma soprattutto però non significa accettare, significa andargli contro come per esempio, io sono robusta ma non significa che devo andare a mangiare detto all'aria romana al McDonald continuamente oppure per esempio al Burger King assolutamente no magari significa preferisci le cose al forno rispetto alle fritte mangia carne bianca invece di mangiare carne rossa o comunque fai attenzione ai segnali che ti manda il corpo che tu non tolleri certe cose da qui significa che tu diventi consapevole di te stesso e soprattutto inizi a prenderti cura e ad amarti perché è quello che spesso ci dimentichiamo di fare vi faccio un esempio io avevo delle grosse emicranie molto più spesso di ora perché ora magari ce l'ho una volta a settimana ma prima ne avevo molto più spesso avevo delle grosse emicranie derivate da non so che cosa perché avevo fatto pure analisi neurologiche non risultava epilessia, non risultava niente eccetera eccetera e ogni volta mi spuntava proprio qui una vena a forma di serpente nonché avevo delle occhiaie marcate con qui il fondo oculare un po' rossastro solo dopo ho scoperto che era un chiaro segnale del corpo di indicare una tiroidite in atto che poteva sia invertendo effetti 3 e effetti 4 farmi dimagrire troppo o farmi ingrassare come un bue non ero consapevole ora invece ci faccio più attenzione tanto è vero che di mal di testa ne ho molti di meno queste sono le cose che io voglio dire col mio canale amarsi, accettarsi così come si è però avendo sempre cura di se stessi non dimenticandosi che gli altri possono vederci come vogliono ma i primi a valorizzarsi dobbiamo essere noi vi posterò il link del canale di Cristina Russo che ultimamente è diventata esperta anche in extension ciglia e non vedo l'ora di vedere un suo tutorial perché io trovo che avere delle belle ciglia è una figata pazzesca io ho deciso di non farle perché ho gli occhi troppo sensibili per via della condizione che sapete quindi mi sarebbe tanto piaciuto quantomeno metterne proprio giusto giusto poche poche giusto per valorizzarle meglio però ne faccio a meno piuttosto utilizzerò le fibre pazienza ma per chi non ha grossi problemi come i miei secondo me se siete nella città di Cristina lei sicuramente le fa in maniera professionale sicuramente studia tantissimo le cose di cui si occupa ne abbiamo discusso per esempio nella manicure mi ha dato tantissimi consigli è molto professionale mi ha spiegato le varie chimiche dell'unghia sicuramente ne saprà altrettanto sulle ciglia e quindi vi posto il canale per poter seguirli sui tutorial e per in caso poterle contattare vi ricordo comunque se vedete i tutorial non sentitevi autorizzati a farli senza aver fatto un corso io stessa non faccio tutorial di unghie proprio perché non ho un corso con attestato quindi non mi sento ancora di mostrarvi le mie competenze perché le mie competenze sono competenze amatoriali ed è giusto così per correttezza proprio intellettuale non mi sento di farlo ci ho provato, ci ho ripensato, ci ho pensato eccetera eccetera il massimo che ho potuto fare è farvi vedere come mi levavo lo smalto giusto per farvi vedere i prodotti che mettevo per curarmene il che mi sembrava giusto perché giustamente perché aver cura delle unghie dopo un trattamento per i prodotti che avevo provato d'altronde erano semplicemente dei prodotti, dei oli nutritivi per le unghie non mi sento di farvi vedere come si fa l'applicazione di un prodotto come il semi permanente per correttezza intellettuale ma sicuramente vi posto il link del canale di Cristina Russo un bacio ancora amica di unghia e alla prossima ciao